Anche questa domenica ho piacere di raggiungervi con un messaggio in video. Celebriamo la quinta domenica di Quaresima, al cui centro sta la figura e la pagina del Vangelo di Giovanni su Lazzaro. Fa un certo effetto leggere in giorni di epidemia la pagina giovanea della resurrezione di Lazzaro, in modo particolare la frase che dice questa malattia non porterà alla morte ma è per la gloria di Dio. Purtroppo l'epidemia sta falcidiando molte vite e non sappiamo dire quali cifre raggiungerà alla fine la triste contabilità. C'è comunque nel Vangelo una lotta irriducibile, una non rassegnazione di Gesù alla morte, alla morte dell'amico, dei suoi, di tutti. Anche la malattia, anzi perfino la morte, diventa con Gesù luogo di affermazione della vita e di tutto ciò che fa vivere, come l'amicizia. Soprattutto la resurrezione dell'amico Lazzaro diventa segno anticipatore della sua risurrezione, il grido quasi, con il quale Dio chiama all'appello tutti i minacciati e i morenti, invitandoli a non rassegnarsi e a continuare a credere, anzi a credere più fortemente perché per essi egli muore e risorge. Sempre in Giovanni leggiamo nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Dal dono di sé per un supremo affetto di amicizia prende nuovo senso l'esperienza del dolore e della morte perché si apre a un'affermazione della vita e dell'amicizia contro ogni impedimento e ogni ostacolo. Non solo le cronache di questi giorni ma anche le notizie che circolano nelle nostre comunità parlano di tanta generosità negli ospedali, nelle case, nei vicinati, nei posti di lavoro. Che cos'è tutto questo se non il segno di una risurrezione in atto? E perché no? Che cos'è se non gloria di Dio? È un segno che dobbiamo raccogliere tutti ora. La più grande tentazione è che la quarantena, questo isolamento di tutti, pieghi i nostri spiriti e li induca alla pigrizia, al ripiegamento su di sé, all'accidia. Le testimonianze di generosità ci dicono che bisogna stare svegli, mobilitare nuove forme di vitalità interiore e relazionale. Anche a noi Gesù vuole dire io vado a svegliarlo e ancora vieni fuori. Potremmo considerarle queste le parole d'ordine che ci attendono all'uscita dal tunnel. Ma intanto sapremo accoglierne lo squillo se ce ne facciamo fin da ora ascoltatori. Ora, non dopo, abbiamo bisogno di risvegliarci e di venire fuori dai nostri cuori prima che dalle nostre case. E se non desideriamo uscire da noi stessi per fare dono di noi stessi e non per evadere, il nostro tornare a sciamare per le strade e per i luoghi dei nostri ritrovarci e del nostro stare insieme in società non sarà una esperienza di liberazione, ma solo un sollievo di breve durata, dopo il quale la vita continuerà ad essere un peso più che una gioia. Buona domenica.